Ciao, da sempre vuoi lavorare in campo estetico ma non sai come lasciare il tuo vecchio impiego? Vuoi cambiare il tuo lavoro ma non sei convinta di tornare sui libri di scuola? Vuoi un lavoro che ti dia la massima indipendenza sia a livello economico sia dal punto di vista della migliore organizzazione del tuo tempo libero? Bene, allora pensa a come la tua vita potrebbe cambiare se in poco tempo fossi in grado di apprendere una nuova professione grazie ad un metodo formativo veloce ed efficace. Pensa a come ti sentiresti se alla fine di questo periodo fossi già in grado di superare un esame, prendere un riconoscimento che attesta la tua competenza e iniziare a guadagnare amministrando il tuo tempo come più ti piace, conciliando al meglio professione e vita personale. Trovi interessante tutto questo? Allora investi i prossimi minuti del tuo tempo per vedere questo video perché oggi voglio spiegarti come tutto questo può diventare realtà, la tua realtà. Io sono Katia Mandolini e sono la direttrice didattica dell'Accademia Professionale Oligenesi, la più grande accademia olistica di tutta Italia. Da 25 anni insegno a più di 5.000 allievi l'anno a diventare professionisti di successo. Come riesco a fare tutto questo? Costringendoli ad evolversi, sia dal punto di vista personale che professionale, così che possano imparare ad utilizzare tutte le loro risorse per raggiungere i loro obiettivi. I corsi per specializzarsi in campo estetico non sono una semplice illustrazione di nozioni e tecniche da imparare. Lavorare in campo estetico per noi è molto di più. Vuol dire apprendere un nuovo modo per relazionarsi con i propri clienti, fidelizzarli e procurarsene continuamente di nuovi. La maggior parte dei nostri studenti ci dice Oligenesi mi ha cambiato la vita. Noi creiamo professionisti liberi. Lo facciamo attraverso il metodo MCA esclusivo di Oligenesi. M come mentalità. La prima cosa che facciamo è formare la mente vincente di un professionista consapevole delle proprie risorse e degli strumenti acquisiti per raggiungere i propri obiettivi. C come competenze. Nel secondo passo creiamo le competenze tecniche e manageriali che servono a edificare la struttura portante del professionista. Competenze sul ramo d'estetica scelto per la propria specializzazione, ma anche sulla comunicazione efficace, sul marketing, la capacità di vendere il proprio servizio e se stessi. A come autonomia. L'autonomia in Oligenesi è una mission. Autonomia vuol dire consapevolezza del proprio valore, indipendentemente dal brand al quale siamo legati. Il professionista che esce dalla nostra scuola utilizza tutti i benefici del nostro marchio, ma non ne è dipendente. Semplicemente perché la sua forza nel mercato è talmente alta in termini di qualità e competenze che se volesse potrebbe camminare anche da solo, senza l'appoggio della scuola, che comunque è sempre presente per sostenerlo e guidarlo. A presto, ti aspettiamo.